Benvenuto, ecco qui grande, grazie, grazie, grazie per essere qui, grandissimo, grazie, buonasera, lasciamo il pubblico. Allora io ho anche una interprete, quelle persone che sentono il cuore, vuoi partire? Guarda come il donzolo, guarda come il donzolo con il tuo istituite, con le gagniata a colo, con le gagniata a colo, a tu, risdistristine. Sarà per te e io giusciolo, e saranno gli occhi tuoi che brittano, vabbè più mille, mille, mille rucciali, per venirli contro insieme insieme. Guarda qua, è questa tattana, guarda qua, è questa tattana, guarda qua, è questa tattana, guarda qua, è questa qui, vuole che augmente a la tua, vuole che augmente a la tua, parvala tu qui. E le mie gaffe tremano, e di chi non ti citano, Abre dai dottori울iti, oggi ci sono a testo molto di parte gliele, da qua spooky lente bellissime, sport Orate ragazzi non potrei stare là, si prende guardate qua non devono essere i tuoi figli MFP7 emics Ma quindi, Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie, grazie!